Cesare Andrisano, devo dire che ho visto tanto entusiasmo nella presentazione per questa 44esima edizione, tanta voglia di essere già in quel periodo e devo dire che qui si comincerà l'ultimo weekend di settembre, quest'anno si va fino a Natale. Sì, noi abbiamo cercato di allungare il periodo andando incontro anche a un ponte importante da vendere per quanto riguarda il turismo, nell'accoglienza, nelle strutture ricettive e soprattutto avvicinandoci anche al Natale. L'entusiasmo in un periodo difficile nel nostro paese, nell'economia e tutto ci deve essere. Poi il tartufo è veramente l'elemento principe del nostro territorio, quindi siamo tutti concentrati per promuoverlo a 360 gradi. Poi tante collaborazioni con anche paesi esteri, l'anno scorso avete fatto viaggi a Roma a portare il tartufo a Totti, siete andati da Renzi, quest'anno addirittura si parla di andare anche all'estero. Sì, ci siamo inventati l'altro anno quelli che sono gli ambasciatori del tartufo e quest'anno ripeteremo l'esperienza con attori protagonisti importanti, spazieremo un po' a 360 gradi, un po' più sul turismo, tra tour operator, abbiamo in mente anche alcuni eventi, però lì è ancora una sorpresa con forse con alcune compagnie di navi da crociera, insomma cerchiamo di fare ogni anno sempre qualcosa di migliore. Lo scopriremo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi di Radio Bruno.